Per avere tutte le pitture facciali di Halloween su GTA Online basta andare dal barbiere e comprare tutte le pitture facciali con la scritta sotto Parte della sorpresa di Halloween entro la mattina di giovedì 3 novembre Esatto, basta solo comprare quelle che vi piacciono per salvare per sempre, anche dopo la fine dell'evento di Halloween E non vi preoccupate se non ci sarà il ticchettino verde che vi indica che possedete quel contenuto Perché le pitture facciali, una volta comprate, rimarranno salvate ugualmente Ovviamente l'unico problema è che ogni volta che vorrete cambiare pittura facciale, anche dopo l'evento di Halloween Dovrete per forza ricomprare quella pittura facciale Ma state tranquilli che con questo metodo tutte le pitture rimarranno nel vostro account da un qualsiasi barbiere per sempre L'importante è acquistare tutte quante, o perlomeno quelle che vi piacciono, prima della mattina di giovedì 3 novembre Che sarà il giorno in cui Rockstar Games rimuoverà i contenuti di Halloween per un altro anno Lo stesso metodo vale ovviamente anche per le maschere di Halloween A differenza delle pitture facciali però per queste non ci sarà bisogno di dover riacquistare un momento anche dopo la fine dell'evento di Halloween